Non riesco, non capisco, non sapere. Perché improvvio a suonare? A chi suono che la famiglia sta tutta qua? A chi devo suonare? A quelli che stanno dietro. Che non la senti la musichetta? S'hanno proprio occupato casa nostra. Allora, siccome paghiamo regolare il fitto, vorremmo solo capire se abbiamo dei diritti oppure no. Ecco, tutta qua. Ma perché sta urlando lei? Non ho capito. Che stava a casa sua qui? Tra l'altro le manco c'era più casa sua, no? Tu direi che dovremmo essere un filo tutti più ragionisti. È vero, è vero, c'hai ragione. Vuoi se dire una cosa ragionevole? Sì. Ma va a trafaculo. Lo sai che hanno occupato l'inferno sé. No, il problema adesso è che la cazza è la maggioranza. Chi viene a sparare? Poi dice che uno finisce in galera. Ma che? Ma che sparare? Ma che sparare? Devi stare tranquillo. Ha perso per merda, ma te non hai capito con chi stai a parlare? Io ti faccio sparare. Quelli sono parassiti. Non vanno via più. Ti volevo fare una proposta un po' strana. Ma che sarebbe? Occupiamo il pianerottolo di casa nostra. Eh? Ma che stava, uzzò? Arriverà il giorno che ci girano pure i nocciolini. Stiamo facendo una cosa senza senso. Perché non ci cerchiamo nel tre portaventro? Comodo, no? C'è pure il centro commerciale vicino. E come si, il giorno no, a mezzanotte e mezzesatta, esce. Ce la sta caricando. Non va, mio, parterà anzi. Eh, non va, non va. Non lo metti in moto! Questi hanno già fatto roba, questi hanno consumato tutti. Ma che stai spagando consumare? Perché non lo devi vedere? Come si chiama ragazzo? Sì, pure. Ci apre, per favore, le dobbiamo far vedere una cosa! E chi è Natale? Waiter... 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 Waiter...